Un agricoltore piacentino di 30 anni è stato arrestato mercoledì intorno a mezzogiorno dai carabinieri di Bobbio perché aveva in casa una piantagione di marijuana con una coltivazione propria. A tradirlo il fatto che non si era fermato a un normale posto di controllo dei carabinieri che gli avevano intimato un'altra con la paletta. L'uomo è fuggito a bordo della sua macchina a tutta velocità fino a Podenzano rischiando anche di provocare un incidente ed è stato infine fermato dai carabinieri. Indosso aveva 4 grammi di hashish e ha opposto resistenza al fatto che i militari volevano percusire la sua abitazione e quindi è stato anche accusato di resistenza pubblico ufficiale. Nella casa sono stati trovati 200 grammi di marijuana, due panetti di hashish per 300 grammi e la piccola piantagione di 15-20 piantine alte circa 30 centimetri. L'uomo è stato quindi arrestato per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti e per la resistenza pubblico ufficiale è messo agli arresti domiciliari. Già il secondo episodio in cui i carabinieri individuano una serra artigianale all'interno di un'abitazione serre anche di una ragguardevole dimensione e soprattutto atteso il frutto che poi è stato rinvenuto cioè diverse piante di marijuana, circa 20 piante di marijuana per un'altezza di 30 centimetri l'una oltre a tutto lo stupefacente è già posto in essiccazione. La cosa, il fenomeno è sicuramente un fenomeno in netta espansione attesa anche la convenienza che la produzione in casa comporta per chi poi è dedito allo spaccio dei stupefacenti oltre che al consumo personale. Da parte nostra c'è il massimo impegno per contrastare questo nuovo fenomeno che andrà sicuramente attenzionato anche in futuro e arginato il più possibile. e inoltre ha tentato in tutti i modi di evitare la perdita.